Se tu potessi vivere le ore del tè, del caffè, il tintinnio indolente delle tazze, se potessi concepire le soavi ore ramate nel pomeriggio di una vecchia famiglia di un secolo vecchio, che si è crogiolato in una memoria romantica, se potessi non spaventarti quando, nella tazza colma di te, vedi il tuo volto dalla fiamma dell'inferno intensamente illuminato.